Popolo di Eurza's Research Lab, bentornati in questo nuovo episodio del LabCast con il vostro pentone bicchieri E il vostro Miricum, un po' malaticcio stasera Questa sera stai bene tu, sto male io? Incredibile Incredibile, c'è un po' il naso tappato, il cambio di stagione, è diventato super freddo Poi tu il freddo lo soffri, io soffro il caldo e io soffro il freddo Soffro un po' tutto e due sincero, mi dà fastidio tutto No, io il freddo lo amo Più che altro nel cambio di stagione devo sempre prendere un po', devo sempre stare male un pochino, no capito? Visto che ho poco da fare adesso, visto che c'è poco da fare Ragazzi, bentornati a questo nuovo episodio del LabCast, è un po' che non ne facciamo uno in realtà È stato un po' di tempo e vi ricordiamo infatti il primo nel quale sono disponibili gli abbonamenti Quindi vi ricordiamo, come sempre, epiteto tutte le volte Ricordatevi che da adesso avete la possibilità di abbonarmi al canale Quindi con una piccola donazione in base al vostro livello di interesse Sei, insomma, studioso, ricercatore, professore e innovatore O laboratori mania Laboratori mania, poi abbiamo cambiato nome alla fine Quindi avete la grafica in sovraimpressione per scoprire tutti i vantaggi di ogni tier di abbonamento C'è il video dedicato che il nostro pentola vecchiale linkerà, ovviamente E quindi potete avere accesso a una serie di extra Ci si può anche tranquillamente iscrivere gratuitamente Tutti i content saranno sempre gratuiti e questo è importante ricordarlo Mi raccomando di iscrivervi perché siamo sempre più vicini ai 1000 E i 1000 era il threshold che avevamo settato Per un altro giveaway A parte per un altro giveaway che sarà un bagno di sangue, di soldi Ma a parte quello, il threshold che avevamo messo alla fine dell'anno era l'obiettivo Esatto Era l'obiettivo per dicembre Invece fino a ottobre rischiamo di arrivare a quasi 900 Rischiamo di dover regalare altre carte Bene e bene Bene, bene, molto bene Quindi ragazzi mi raccomando iscrizione, abbonamento e like con commento e bacino Non bacino Oppure non bacino Ovviamente ragazzi oggi parliamo di un argomento spicy Parliamo di un po' di spice, cose nuove Abbiamo visto tutti quanti la presentazione, la grande marchettona della nostra Wizard of the Coast Sì, è un po' una caduta di stile possiamo dirlo Perché ovviamente parliamo della banlist di cui abbiamo ampiamente parlato in un video precedente Che potete andarvi a recuperare se volete recuperarvi un video di una banlist passata Però ci sta Per la quale chiaramente non abbiamo messo il video di risposta visto che non è cambiato assolutamente niente Sì ovviamente non è cambiato niente Se no avete visto video perché era inutile commentare un no changes che avevamo già detto noi sostanzialmente Sì era abbastanza plausibile che si avassi in quella direzione Poi l'arte di parlare per un'ora di un no changes comunque ce l'abbiamo praticamente solo noi Comunque c'è stato esatto c'è stato comunque un certo impegno Comunque c'è dell'arte c'è dell'arte in tutto questo Ma all'interno di quel no changes c'era anche la marchettona se vogliamo anche nomarla così Al famoso play booster Il play booster cambia tutto Cambia tutto tra cui il prezzo delle bustine Parliamo delle basi Cos'è un play booster? In pratica qualcuno secondo me alla wizard si è alzato e ha detto ma facciamo fare un incidente frontale Tra i draft booster e i set booster E nasce il play booster Che sostanzialmente il livello di rare, la quantità di rare è quello del set booster Quindi da 1 a 4 ma draftabile Quindi non con 12 carte playable come nei vecchi set booster Che infatti era anche uno dei problemi che hanno citato nel fantomatico articolo Sull'uscita di queste play booster Lunghissimo peraltro che lo linkiamo in descrizione perché analizzarlo sarebbe stato allucinante Perché spiegano tutte le motivazioni e tutto quanto, le loro risposte E' dettagliato perché effettivamente se ci pensi Almeno questo è sempre stato il mio pensiero Il set booster è sempre stato un punto interrogativo Cioè a cosa serve? A sboostare? Più o meno Oltre a creare una confusione incredibile della gente Secondo me che compra i box online Sì 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 che impazzisce perché dice ma perché c'è un box che costa 130 E altro meno E altro 160 E no di più Ormai i box costano Noi siamo abituati a quando costavano 90 Ah sì? Sì 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 Costa così tanto? Io non compro bustine quindi sono un po' fuori In un LGS in un negozio qualsiasi ormai i box 120-130 Perché i prezzi sono quelli Molto bene Invece il set booster 160 E dipende dall'espansione perché è di Modern Horizon col cavolo che ti costa 130-160 No beh c'è magari E adesso aumenteranno maggior ragione Adesso aumenteranno maggior ragione perché non è ufficialissimo però da un calcolo fatto con più negozianti Si è arrivato al fatto che questa busta costerà circa 7 euro Quindi vuol dire che i draft costeranno molto di più perché vuol dire che 7 per 3 21 21 Che quindi costerà un po' di meno Quindi fai 20 Sì 20 Pensiamo al sealed 6 per 7 Pre-release secondo me sarà un disastro Perché è anche uno di quegli eventi carini perché ci sono un sacco di new player O comunque gente curiosa che adesso dovrà spendere una volta ai miei tempi Costava 25 euro E ti davano pure la bustina E forse addirittura due bustine Questo non mi ricordo però io mi ricordo quando le bustine single costavano 3 euro Sì sì Ravnica In 2010 quando avevo appena iniziato a giocare c'erano ancora delle bustine di Ravnica Vecchia cioè l'originale 4 euro Ravnica vecchia Sì mi ricordo i draft a 10 euro massimo Draft a 10 euro sì sì Ti li portavi a casa a 10 euro Diciamo che faceva avvicinare più volentieri i nuovi giocatori Certo perché costando di meno Sai magari non apri la rara mitica da 40 euro Però con 10 euro dovresti Se vinci se fai un buon risultato dovresti comunque riuscire quasi sempre a rientrarci Beh ti passi 3 ore di gioco E comunque sono 3 ore di gioco Mentre invece già con i 15 euro In molti casi anche Mi ricordo ho draftato un sacco Capenna per esempio Capenna era un disastro perché O trovavi il carretto O trovavi il carretto Se volevi andare su E dovevi vincere perché il carretto è solo uno ovviamente Quindi molto complicato Oppure dovevi trovare i triomi foil Se proprio volevi fare Cose strane Però dovevi trovarli e non draftarli perché sono pure brutti Quindi sostanzialmente È un problema Almeno secondo noi è un problema dal punto di vista dell'accessibilità al giocatore Già limited non voglio dire che sia un formato non visto perché non è vero Però è già un po' più difficile da affrontare da un punto di vista Anche di community Io parlo qua di Torino per esempio Non c'è una community di limited Non c'è un negozio dove si fa limited Un po' tutti i negozi provano a fare il proprio draft da 8, 10, 12 giocatori Diciamo che non c'è chi ti insegna Diciamo che sono giocatori discreti Non è per esempio come noi che andiamo Altro di modo noi ci troviamo vinci Non c'è quello forte Non c'è il riferimento Quindi già è secondo me Un formato in difficoltà In più lo mettiamo ancora di più in difficoltà Rendendolo un botto più complesso Anche dal punto di vista del card pool Perché da 1 a 4 ore in draft È un cambiamento davvero tanto radicale E questo prendo spunto proprio perché Come prossimo step di presentazione di questo nuovo prodotto L'idea era anche di andare a vedere di fatto cosa c'è dentro Perché cambiano un po' di cose Insomma ho visto anch'io che non ero proprio tanto familiare Con questo tipo di meccanica Anche perché io non apro bustine Compro le singole che mi servono Sono un po' allergico al fatto dei booster Perché insomma non sono notoriamente fortunato Nell'aprirne Quindi più che altro Mi ricordo che un po' di tempo fa Fino a quando erano un prezzo accessibile Capito? 4 euro glieli dai Mi ricordo che ogni volta che facevo un torneo Che fosse andato male Anzi se andava male Prendevo una busta Per tirarti ancora più giù Esatto Così per il player Quindi andiamo a vedere di cosa è composto Queste buste di gioco Si chiamano adesso Draftabile fino a 4 ore in totale Come abbiamo già ricordato Allora slot 1-6 sono comuni Quindi le prime 6 sono comuni ovvio Ok Come sempre Slot 7 è una comune o una carta della list Quindi questa potrebbe essere la prima rara Sì per fare ancora più confusione Esatto 3 slot dall'8 al 10 di non comuni Poi abbiamo lo slot 11 della rara o rara mitica Classic rara Lo slot 12 terra base Slot 13 slot jolly non foil Anche questo non è chiaro Sì non è chiarissimo È una carta jolly nel senso che Una carta dell'espansione ovviamente Esatto Non foil ma può essere di qualsiasi rarità Quindi può essere una comune Può essere una rara o una mitica Esatto Quindi in base a quanto sei fortunato Avrai questo fino a 4 ore in totale Che sarebbe l'ottimale immagino no? Abbiamo inoltre la carta jolly foil Quindi come la carta jolly solo foil Però ci sarà sempre Ci sarà sempre una foil a bustina Che questo per me è una grande notizia Perché vuol dire il mercato dei foil Scenderà ancora di più È come Modernized alla fine Che trovi sempre la foil È fatto il costo È fatto il costo A parte delle mitiche Fury foil Inapprocciabili in questo momento 60 euro 60 l'una 65 70 E hai anche Urza Saga da prendere Ho anche Urza Saga da prendere Però la più divertente è Albore al Grazer Albore al Grazer Per Amulet Titan Sono 20 euro l'una Comune E poi appena la comprerò io La ristamperanno in un set di standard Ma perché va sempre così Come i Mario Infiniti Queste cose qua È comune o un common? È comune È comune E poi la quindicesima È la pedina La carta promozionale In realtà abbiamo visto Che ci sono le percentuali Di trovare una carta guida Una carta con l'illustrazione Una pedina Ragazzi mettete le pedine È l'unica cosa utile Anche perché poi alla fine Crei l'effetto pedina Di Kiki Jiki Che costa 7 euro Che costa 7 euro Ma mi ricordo i tempi La pedina del Wurm Del Wurcoil C'erano le due pedine Che costavano Mi ricordo Quella con Lifelink 3,50 euro L'ho comprata 3,50 euro Quella con detta C'era introvabile L'ho pagata 10 euro Io credo di non averle mai viste Nella vita reale Tra l'altro con Lifelink L'ho pure sbustata Mi ricordo Ma quando era ancora scemotto Quindi del gioco Non capivo Ho detto Figo Mi sono ritrovato Tra l'altro Giocando Pioneer Ancora mesi fa Mi sono ritrovato Tutte le pedine Shark Che io le avevo prese All'epoca Un po' così Adesso stanno comunque Un tocco E gli squaletti Non c'era nessuno Non mi era stampata Adesso ogni tanto Si vede in qualche lista di moda Quindi chissà Chissà Spike del Shark token Non credo proprio Non penso proprio Queste sono le 15 carte Insomma avete ancora Le grafiche Mi si farò impressione Diciamo che La vera domanda Che io avrei Per il nostro pentolame È Che impatto avrà Sul Limited Questo nuovo stile Di draft Allora È un impatto devastante Su tanti punti di vista Innanzitutto Il fatto di avere Meno comuni Perché alla fine Hai 6 comuni Barra 7 Sì Perché la carta della lista Deve essere comune Oppure no Non si sa Invece delle 10 classiche Sicure garantite Rende alcune comuni E renderà ancora più forti Perché saranno ancora più rare Cioè io mi immagino Nel set corrente Che c'è L'Amlock Gatter Non mi ricordo più come si chiama Il gigantone Lo metteremo da qualche parte Il gigantone Common Quello con bar gain Che quando entra Guadagna i 3 punti vita Sì sì L'abbiamo nominato Mi pare Sì perché è la carta più forte Molto forte È la carta più forte Del Limited Comune Renderla ancora più rara Diventa un problema Perché sostanzialmente Diventa un uncommon E quindi rende Ancora più awkward Lo stile di draft Di drafting Che devi applicare Poi c'è l'altro problema Che è un po' più lampante Infatti ho visto Tanto dibattito Su questa cosa Ovvero delle rare Il problema di avere Tante rare Vuol dire che Il power level Drasticamente si alza In maniera assurda Tra l'altro Tu sei premiato Non se apri le rare Ma se quello di fianco a te Apri le rare Sì perché te le passa Perché se tu ci pensi A livello strategico In un draft ovviamente Di persona Non su arena Se io apro una rara Vuol dire che non ne passo nessuna Ma se quello di fianco a me Me ne passa tre Sì è come aprire Due mocks In vintage cube Esatto Infatti è successo Anche l'ultimo vintage cube Dove non c'era Infatti è successo un disastro Perché nessuno piccava teferi Tra l'altro che insomma Lo picco io Però non c'ero io Infatti non c'era Nessuno piccava teferi Però sprinter twin L'ho preso io Infatti Ma me lo passano ormai Cioè io non devo Niente volerlo fare Ho fatto tutto Come al solito Come al solito Poi l'altra volta L'avevo fatto tutto Che tu non c'eri E io non c'eri Esatto Eh vedi Quando manca uno di due Succede sempre questa cosa Perfetto E l'altra cosa Che ci ho pensato adesso È il fatto che c'è una carta Della lista Possibile Le carte della lista Possibili Possibili Rendono ancora più imprevedibile Quello che può essere Un meta Perché vuol dire che Già devo avere una buona Knowledge del formato Ovviamente Però di solito La knowledge la si basa Sulle comuni Sulle non comuni E sulle rare più impattanti Tipo So che c'è una avratta nel set So che la avratta è bianca Sto giocando contro un mazzo bianco Allora la mia giocata sarà Ma se io faccio questa cosa E l'adversario avratta Ho esattamente perso Allora puoi fare quel workaround Però su una carta Se invece Iniziano ad esserci Quattro rare per pacco Io devo A un certo punto Iniziare a smettere Di pensare Perché altrimenti Devo fare un overthinking Un po' troppo estensivo E in più Tra l'altro Con carte non del set Perché i set booster Scusatemi Le carte della lista Mi ricordo che a un certo punto C'era Una moga dieci Liliana della stop Vrenen six In draft Cavern of souls In draft Cioè mi ricordo E puoi aprirla qui Sì Oppure E' mitica però Tra l'altro Cavern of souls Però è mitica Va bene Cioè ci sta Pensa a trovarne due Una la devi passare Vabbè fantastico È vero Pensa a chi trova Manacript Manacript in draft Manacript in draft Non mi sembra per niente male Mamma mia Se sto solo pensando Perché giochi di dinosauroni Diventa forti No vabbè E' una mitica Quindi ci sta Quindi l'impatto è devastante Cioè Io sostanzialmente Ovviamente Le proverò Perché vanno provate Queste cose Da una parte Magari mi sbaglio E diventa più figo Perché il power level È ancora più alto Potrebbe assomigliare A una sorta di Standard cube Se vogliamo chiamarlo così Sì Però il fatto che va Su Tutti i prossimi Booster Capito Questo è un disastro D'ora in poi sarà così Standard sarà così Io mi immagino Un modern horizon 3 Che appunto uscirà Sappiamo che uscirà Che quindi costerà già Un sacco di più Perché mi ricordo Modern horizon in media Una busta costava 9-10 euro Io ho trovato anche a 8 Sì 8-10 il range Se proprio c'era il negozio Che aveva fare la calessa Faceva 10-11 Sostanzialmente Io mi immagino già Un power level Del genere Per 4 In un draft Anche perché di solito I master set Gli ex master set Che non esistono più Ok adesso sono Gli horizon set Sì Tendenzialmente Sono molto belli Da draftare Perché ci sono delle bombe Incredibili Double master È fighissimo È carte forti È fighissimo Da giocare Double master Per 2022 Mi dicono Io avevo Boris Prowess Con 4 Quanto ero Lancia rapide Bellissimo C'erano delle Bombe atomiche Ma almeno era solo una Qua invece mi immagino Un draft Dove magari ci sono Dei elementali nuovi Che mi fanno una roba Semilfury E ce ne sono di più al tavolo Io sono l'unico cretino Che non ha aperto niente Però ti passano Magari qualcuno arriva Se uno ne apre due Sembra davvero difficile Sembra molto difficile Una fury che passa Mi sembra davvero difficile Anche perché è mitica Sì È davvero difficile Io mi immagino A parte il costo di per sé Che ovviamente salirà Di tutto quanto E quindi anche le singole Saliranno Perché verranno aperte di meno Secondo me c'è proprio Un effetto domino Devastante Su questo punto di vista Ma anche a livello di draft Più il power level Già del set È alto E più me lo vai a Disintegrare totalmente Sì Anche perché Ci serve da capire Questa cosa qua Vale solo per i set standard Varrà anche per Modern Horizon 3 Per esempio Quindi avrai Fino a 4 ore In un pacchetto solo Quindi Se per la stessa Equazione Perché loro parlano Del fatto che C'è anche un pezzo Molto divertente In cui si chiedono da soli Costerà di più Probabilmente sì Però il rapporto Quantità di rare Che puoi trovare Prezzo del pacchetto Quindi per lo stesso motivo Se fai per esempio Un Modern Horizon 3 In questa maniera Quanto mi costa Esatto Anche perché È vero che Modern Horizon 2 È pieno di bombe atomiche Però è anche vero Che c'è Inevitable betrayal Che sono 40 centesimi Ci sono le cartacce Da 40 centesimi La palta Calibrated blast No Calibrated blast Era del primo Modern Horizon Mi sembra No era del 2 Ed è del 2 Calibrated blast Che si sta giocando In un altro video Ne parleremo In un altro video Però sono 40 centesimi Di carta Quindi vuol dire Ok è vero Che tecnicamente La probabilità è la stessa Ma la stessa probabilità Comunque di aprire Male Però con Ancora meno soldi Ne portafoglie Certo Quindi non lo so Non lo so Io non sono molto contento Di questa cosa Credo che i negozi Invece saranno contentissimi Di queste cose Soprattutto i negozi Che sbustano Che sbustano i box Quelli saranno molto contenti Quindi immagino Che anche Questo incremento Di prezzo Avrà una grande Riportazione Anche sui prezzi Dei booster box Perché Sì beh certo Se ci pensi Adesso sarà 7 per 36 7 per 36 2,52 Adesso quant'è un box 130 130 Ok cambia parecchio Cambia parecchio Perché fai che scontato Sali di 100 euro Perché scontato Verrà Cioè scontato Ovviamente per un box Non si fa La moltiplicazione pura Nude e cruda Perché altrimenti Non avrebbe senso Quindi verrà 230 220 Mi immagino Che è il prezzo Di base Di un modern master Se era una volta E infatti Io mi immagino Un box Di un modern horizon Adesso quanto potrà costare 350 Quale Il booster Quanto potrà costare Costará ancora di più Perché la gente Vorrà di più Quelli a quel punto Quindi ci saranno Ancora di meno Sarà un piccolo disastro Soprattutto per questi set Impattanti Cioè diciamo Cioè alla fine Ormai siamo Arrivati al punto Per cui il set Dell'anno È il modern horizon Che ti cambia La meta di modern Carte forti Pioneer horizon Se mai vorranno farlo Che io spero Continuo a sperare Tantissimo Però ovviamente A livello economico Sarebbe ancora Una botta Peggiore Che andrebbe a peggiorare Ancora di più Quello che è Il costo di Pioneer Che è in realtà Il suo punto di forza Più o meno Perché più o meno Perché i suoi 3.000 euro Li costa Più o meno E sullo standard Secondo me Rendi il draft Più brutto in real E un po' più figo Su Arena Quindi più o meno Questo è È una piccola novità Marchettata Dentro la banlist Alla fine Era l'unica cosa Che c'era scritta Ragazzi C'è il play booster Non hanno neanche spiegato Il perché no change Questa cosa era strana Infatti a me Ha fatto un po' arrabbiare È vero Che non dicono Carte che stanno monitorando Quali sono le situazioni Sotto controllo Anche perché si sapeva Che guardavano Griff Si sapeva che guardavano Violent Armour Cascanti sì Cioè almeno dirmi Griff va bene Dammi un'idea Di quello che stai pensando Ci sta Non lo so Quindi questo più o meno È il play booster Fateci sapere cosa ne pensate Quali sono le vostre idee Se giocate limited E quali potrebbero essere Secondo voi Gli impatti Che avrà Questo nuovo formato Di set booster Di play booster Ormai Bisogna chiamarlo così Sì Sul formato non constructed Quindi sul sealed E sul draft Limited draft Certo Quindi Fateci sapere cosa ne pensate La nostra idea è abbastanza confusa Almeno la mia Perché insomma Mi immagino l'incremento dei prezzi Che per me È un malus Nel senso Non andrò a comprare Certo E a maggior ragione Non mi butterò in draft E pre-lease Che già io Non è che buzzico particolarmente Come ben sapete Però Continuerò a fare Vintage Cube Che vi devo dire ragazzi Eh sì Anche per i WPNQ sealed Sarà un disastro questa cosa Eh questa era sempre sempre di più E questa cosa Avvicinare a sempre meno giocatori Anche al contenuto competitivo Al competitivo certo Che è già poco avvicinato di base In generale Visto la stragrande ragionanza Di giocatori for fun Non constructed Andare a perdere giocatori Anche nella parte competitive Potrebbe essere un grande problema Ma Parliamo anche di un'altra notizia Notizie buone sembrerebbe Perché abbiamo gli spoiler Perché per coincidenza Oggi è il lunedì Dove hanno fatto il trailer Di Salam Oggi è martedì comunque Scusa E il martedì dove hanno fatto Il trailer di X Ieri hanno fatto vedere La collaborazione con la Marvel Che è un altro video Che bisogna fare per forza Oddio Perché potrebbe essere un disastro Potrebbe essere la cosa più figa Mai vista Potrebbero avere tutti i miei soldi Oppure zero euro Come per Doctor Who Cioè dipende Perché io sono un grande fan Della Marvel Quindi dipende da tante cose In tutto questo Stiamo parlando di giorni Che non hanno senso per voi Perché oggi è martedì 24 ottobre Sì sì ma uscirà Uscirà sì tra una settimana Più o meno In questi termini Ecco Ci stiamo già preparando Un po' in anticipo Perché chiaramente abbiamo Tanta molla di lavoro Con gli abbonamenti Con le iscrizioni Nuovi progetti Tante cose Quindi siamo un po' Avanti nel tempo Sì Fa un po' time raveler Esatto Quindi di fatto Stiamo parlando di una cosa Che è uscita oggi Quindi ne parliamo Così di primo pelo Infatti Allora Sono uscite un po' di cosine carine Che adesso andiamo a ripescare Dai nostri amici Di Mythic Spoiler Quindi intanto abbiamo Il map token Finalmente abbiamo il map token Che era assolutamente Niente rispetto a quello Che ci aspettavamo noi Sì un po' una delusione Generale Eh sì Noi ci aspettavamo Una roba un po' più Alla clue Alla Alla Una cosa che posso attivare A instant speed Sì esatto Almeno quello Allora Leggiamo la carta Come al solito Il nostro grande consiglio Vale anche per noi stessi Allora Un token artefatto Chiaramente come già Ci immaginavamo Uno Tappa Sacrifica questo artefatto Target creature Che controlli Esplora Attiva solo come una sorcery Chiaramente Esplora È l'abilità dell'Xland vecchia Che è quella che vai a rivelare La top card della tua library La puoi mettere in mano Se no l'anda Se no La puoi lasciare lì O metterla nel greger De mettere un counter Plus one Plus one Sulla creatura Che è targettata Dall'abilità Senza infami Senza lode Ma ci può stare Nel senso Ci immaginavamo Che fosse un token Che andava attivato Con un costo di mana Perché ti ricordi Kennen Kellan Non mi ricordo più come si chiama Che faceva X map token Sì X map token Con la sua avventura Quindi era per forza Qualcosa che andava attivato Con un costo Perché altrimenti Quella carta diventava davvero sbroccata Sarebbe rotta Sarebbe rottissima E in tema Sì Ha senso anche a livello di flavor Perché esplori Con la mappa Quindi ci sta Noi ci aspettavamo qualcosa di diverso Però Carino che Insieme al map token È stata spoilerata Spyglass Siren E E il map token entra Quando la trattura Entra in battlefield Quindi comunque te lo danno Abbastanza easy Ecco Uno blu Entra un 1-1 volante Con un upside Sì sì Tipo i vecchi clue token Alla fine Cioè l'idea è quella È un plus che ti dà qualcosa Però clue token è forte sempre Perché pescare è un po' più forte E mettere 1-1-1 Infatti ti costano in più Quindi Questa è il map token Abbiamo una nuova abilità Discover Che presenteremo Con la scommessa persa Dal nostro pentolo bicchieri Con Quintorius Allora Potete vedere già Dalle grafiche Che si tratta di una cartaccia È una cartaccia Io ci speravo tantissimo Perché Quintorius È uno dei miei personaggi preferiti È un grande Merita tutto il vostro rispetto E se non ce l'ha Fate davvero male Purtroppo È una cartaccia Che non ha Ha una passiva Che però non esiste Perché non l'ha Allora Andiamola a leggere Andiamola a leggere Ascoltiamo il nostro consiglio Leggete le carte Maledetti Quintorius Kand Prensor che è leggendario Costo 5-3 Uno rosso e uno bianco Quindi va nello spot Di Teferi Hero Dominaria Vabbè adesso iniziamo con stile Hai detto che sarebbe stato Playable fortissimo Io ci speravo Io ci speravo Rispetto a quello che stai dicendo In Dragon 4 Ogni qualvolta Casti uno spell Dall'esilio Quintorius Kand Fa due danni Tu ogni opponent E prendi Due vita Va bene Sì perché Fa due danni E vuoi danni due vita Quindi è scritto Come Lighting Helix Però sembra molto Un drain effect All'Ordov Sì 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 Abbiamo più uno Crea uno spirito 3-2 token Bianco Un po' E rosso Senza flying Dammi più due Eh no perché Gli spiriti Sono i suoi spiriti Ne abbiamo già parlato Gli spiriti di 6x7 Sì non hanno volato E l'ho già sfottuto ampiamente Su questa cosa Meno 3 Discover 4 Ok che è la nuova meccanica Discover è una nuova meccanica Cosa fa Discover Allora Mi sembra Che Discover In base al numerino Che c'è scritto Esatto Quindi tu discoveri x E giri carte Dalla cima del mazzo Finché non trovi una carta Che costa x o meno E la puoi castare Senza pagare il suo costo di mana O metterla in mano O metterla in mano Questa è una cosa Che la differenzia appunto Dall'abilità Dalla quale è sicuramente ispirata Che è Cascade Cascade esatto Insomma Cascade è un'abilità molto forte E lo sappiamo molto bene Lo sappiamo bene Questo è un Cascade Strano Un Cascade strano Che va sicuramente Pre-testato Anche perché Sta cosa di poter mettere Le carte in mano Potrebbe essere forte Ti dà una scelta in più Quando hai una scelta in più Di solito è sempre meglio Sì Però il fatto è che Per esempio Come in questo caso Discovery 4 Ma la carta costa 5 Quindi la cascata Non è più derivata Soltanto dal costo di mana Dalla carta Esatto Che ha anche un'altra Grossa differenza Eh viene legata proprio All'abilità stessa Quindi ora Non è il nostro caso Spero che non lo facciano mai Potresti fare una carta Costo 2 Che ha Discovery 4 Esatto Quindi tiri giù carte Che costano 4 o meno Nonostante la scelta che hai castato Costi 2 Esatto Quindi serve una cosa Praticamente rottissima Certo Quindi questa è un po' la differenza Dipende se È sul cast Oppure no No Tu intendi il discover Sì il discover No è un trigger No è un trigger È un trigger Sull'etb È un trigger Sull'etb Quindi è molto più scarso In realtà in questo senso Di cascade Perché cascade Esatto Invece è una trigger Che parte sulla stack Quindi è molto più forte È sempre un 2 per 1 Esatto Invece qua potrebbe essere Puoi scambiare uno per uno Con le carte che hanno discover Questa è un po' la differenza Però devo spezzare una lancia In favore del mio Quintorius Perché la carta che discoveri Va in sinergia con la passiva Perché la casti all'esilio Eh? Fortissimo Eh? Fortissimo Sarà sicuramente Guarda Pago 5 Per castare una carta Che costa 4 E farti 2 danni Te l'ho già detto Quello è il sogno Monopair In Omnath to Light in Pioneer Sì sì Per prendere il posto di Nairi Che vabbè Era già una cartaccia di per sé Però Nairi almeno pesca Ma vabbè Andiamo avanti Questa non pesca manco una carta Andiamo a vedere Meno 6 Esilia un qualsiasi numero Di target card Dal tuo graveyard Aggiungi il rosso Per ogni carta esilata In questa maniera Puoi giocare queste carte Questo turno Quindi pure le land Sì Puoi giocare queste carte Però devi pagarle Se tu giochi carte Boros Lui ti dà solo mana rosso È orrendo Non scegli neanche Non è giusto Quindi il nostro Pantano al bicchiere Perde la scommessa E dovrà montare un mazzo Con Quintorius Penso sia Non mi ricordo esattamente C'entrava Quintorius C'entrava Quintorius Ragazzi Cosa deve fare il nostro Pantano al bicchiere Con Quintorius Comprarne quattro sicuramente Per la bellezza di un euro Forse Sì sì Però tanto full art Lo prenderò Full art Fogli quanto costerà Un euro Un euro e mezzo Non lo so Questo è un paltone Quindi Quintorius Insomma ha smarcato Una grande delusione Per il nostro pentolame Sono disgustato Disgustato da wizard Per questa cosa Invece abbiamo Una bella Una bella sorpresina Sahili che torna The Suns Brilliance Eh sì sì Costo due The Suns Brilliance Perché lei è fidanzatina Di Watley Ah sì 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 Ma ma non sapevo Poi sono colori diversi Quindi è pure carina la cosa Eh sì 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 È molto carina È la prima volta che si vedono insieme Sono carine loro Esatto What big an is a single Grit for Watley Sta craftando Le robe per Watley Un regalo per Watley Che carino Quindi Legendary creature Umano artificiere 2-2 Uno blu E uno rosso tappa Crea un token Che è una copia Di un'altra target creature O artifact Che controlli Solo che in aggiunta È un artefatto È un artefatto Classicone di Sahili Questo Guadagna haste Sacrificala All'inizio Della prossima end step Quindi sostanzialmente Kiki Jiki The Mirror Breaker Brutto 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 perché ti costa due mana Quindi non puoi andare infinite A meno che non hai infinite Umana blu rosso Ma se hai infinite Umana blu rosso Dovresti aver già vinto In altri modi Sì Se era il blu Non hai haste Ce ne sono un po' di cose Ci sono un po' di cose Però l'effetto è sicuramente Uno di quegli effetti Che Diciamo Possono essere rompibili E poi comunque Statue eyes Non è una brutta carta 2-2 A costo 2 Super fair Che tutto quello che devi fare È sopravvivere un turno A avere un'altra cosa da fare Ma un po' pressare facilmente il board Insomma Se hai lasciato unchecked Può essere molto fastidioso Sì 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 È un po' Appunto Secondo me Qualcosa si può fare Soprattutto sulla parte degli artefatti Perché copia anche gli artefatti Sì Quindi Chissà Può copiare i veicoli Cioè Sì Carino che faccia dei dinosauri metallici Sì sì Infatti Nello showcase delle art C'erano dei dinosauri Con tipo Gli abbellimenti Un po' tipici di Karadash Sì che no Sembravano molto Horizon Zero Dawn Ah sì Il gioco Io non ce l'ho Il gioco con i dinosauri meccanici Un po' così Secondo me hanno preso anche un po' di ispirazione Ci sta Poi abbiamo una nuova carta Vito Fanatico Di Aklazoz Che tra l'altro è diventato demone Vampiro demone Ha preso un colore e è diventato un demone Eh sì è diventato il nuovo papa dei Ah il nuovo Dracula Esatto Quindi Cosa c'è di interessante in questa carta Costa 2 Uno bianco Uno nero Creature leggendare Vampiro demone come dicevi Flying 4-4 Quindi le stat sono Incredibile Cioè questo in draft Anche se non hai niente da sacrificare Per il secondo effetto È comunque forte Ogni qualvolta sacrifici un altro permanent Guadagni due vita Se questa è la prima volta Che questa abilità risolve questo turno La prima volta che risolve Quindi se la counteri E ristacca di nuovo Non lo Esatto Tipo Omnath Se ci pensi Esatto come Omnath Omnath a 4 Genesi locus Allora se È la seconda volta Ogni opponent perde due vita Se la terza volta Crea Un 4-3 Vampire demon Creature token with flying Bianco e nero Questa è una carta interessante Innanzitutto perché La casa Ovviamente più auspicabile È Rakdos Sacrifice di Padme Che in questo caso diventerebbe Mardu Sacrifice Perché Se ci pensate Il top di curve È sempre stato un drop a 4 Prima ero L'Obnix di Aftermath Durato pochissimo Che è durato pochissimo Però comunque una carta valida Questa è molto più forte Sì Perché Cavolo Cioè questo ti fa tanto value Tra l'altro Tra l'altro devi sacrificare un permanente Quindi davvero vai in sinergia con tutto quanto In più sei un demone Come si chiama il demone Non mi ricordo più come si chiama il demone Quello che spara i danni Che pinga Quello che pinga È un vero disastro Perché vuol dire che è un disastro di trigger Sulla board Sarà contento il nostro Stefano Vinci Che gioca solo Rakdos Sacrifice Quindi Diventerà Mardu Sacrifice Sicuramente chiederò la sua opinione a riguardo Anche perché ne fai già due da subito Perché se sacchi con l'oven E poi fai tornare il gatto Sacchi un food Hai già il train Molto molto semplice E perdi vita Alla fine col gatto Un'altra volta diventa un demone Diventa Lightning Helix Se ci pensi Perché sacrifico gatto E sacrifico food Vuol dire che entra Faccio un danno Guadagno uno Due danni Guadagno due Quindi un Lightning Helix Ha costo uno E se hai un altro sacchino Ti fanno eserciti Di vampiri volanti Che è schifo Poi 4-3 in Pioneer È pure grosso Perché non c'è Bolt Stampate Bolt in Pioneer Magari su X-Land Che ha pure senso Se ci pensi I fomini Potrebbe avere senso La carta non avrebbe senso In standard però La carta in sé Ma sì Ma che te frega Tanto si vinceglie a Traxa Si vinceglie a Traxa Cosa te ne frega Poi andiamo avanti Abbiamo Osher Tak Deepest Foundation Questa è un'altra carta Di quelle nuove Che diventano Dei dei Che diventano Lande Sì che diventa la Lande Quindi abbiamo finalmente Quello bianco Costa 4 E 2 bianchi Quindi costo 6 totale Creatura leggendaria Dio Vigilance Se una o più creatures token Sarebbero creati Sul suo controllo Fanne il triplo Instead È forte È forte Carta ovviamente Da commander Alla fine Mondrak Quello di Phyrexial Weebly One Sotto steroidi Perché lui li raddoppia Le li triplica Costa anche 2 in più però Quindi ci sta E tutti e due hanno Vigilance però Quindi è proprio un tema ricorrente Dei triplica token Questa chiaramente Carta da commander Non ci sono strategie token Forti in standard Al momento C'è Però è 4 con i ramp Quindi fare 15 token 3-3 Mi sembra davvero troppo Cioè ne passano 5 In costo 6 Insomma non lo so Dove si potrebbe andare A infilare una carta del genere Però insomma Devono ancora spoilerare Mezzo set Molto più di mezzo set Si vedrà Cosa interessante Quando muore Gira Diventa una terra Come quello rosso Che abbiamo affrontato L'altra volta Che aggiunge bianco Una terra non leggendare Peraltro quindi può averne più di una Anche in questo caso Probabilmente per tutti 2 Uno bianco tappa Trasforma il tempio di nuovo Lo può attivare solo se è attaccato Con 3 o più creature Questo torno È solo come una sorcery Quindi Ah Illusion's Landing Non fa nulla sta carta Si si certo Fa niente Fa solo tornare Ti torna di là Esatto A costo 3 Costo 3 tappa Quindi perdi anche una terra Tutti questi day in limited Sono delle bombe clamorose Perché vuol dire che non A parte che ti rampano Se muoiono Ma non muore mai poi E poi non muore mai appunto Mi ricordano gli day di War of the Spark Se ti ricordi Kefnet Kefnet che bello Kefnet poi era fortissimo Abbiamo l'evidenza che In questo set Chiuderanno il ciclo di lande Quello nuovo Si le lande animabili Bicolor Esatto Quindi abbiamo solo In questo momento Giorno 24 ottobre Abbiamo solamente Restless Prairie Quindi quella Selesnia Se noi aspettiamo Quella Zorro Sì esatto Dipende tutto da quello Noi siamo lì Che aspettiamo quella Se quella è playable E quella Dimir Esatto Quella Dimir E quella Zorro Se sono playable quelle Vuol dire che hanno Un futuro queste carte Speriamo Probabilmente no Soprattutto in formati eterni Chiaramente modern In su Abbiamo questa landa Non feciabile Che entra tappata Quindi già vista Molto antipatica Aggiungi Verde e bianco Chiaramente colori Selesnia Due Uno bianco Uno verde Restless Prairie Diventa un 3-3 Verde e bianco Un lama Un lama verde e bianco Sì L'avevamo detto Che ci sarebbe Fino a fine turno C'è anche un Chubacabra A quanto pare Rimane una landa Quando attacca Le altre creature che controlli Prendono più o più Uno fino a fine turno Mid Totalmente mid Come tutte le terre Di questo ciclo Totalmente una verde e nera Sì molto molto mid Questo Sì molto mid Cioè ci sta Per strategia Selesnia Token praticamente Sì Alla fine Alla fine va lì Magro Però Sì Tappare 4 per attaccare Non lo so La vera domanda è perché 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 è un lama Boh Sì Quella è la cosa più interessante Di questa carta C'è quanto mi riguarda Hanno già spoilerato Che ci sarà un capibara 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 Poi abbiamo un nuovo sottotipo di landa La cave Caverna Caverna Grotte Grotte Abbiamo Sì abbiamo tutto il ciclo Grotto c'è già forse Boh non lo so Non mi ricordo Comunque in generale abbiamo questo ciclo In cui quella in colore È l'unica in common Intrastappata Tra l'altro anche quella colorless Non è male Costa 2 E diventa un 3 Elementale fino a fine turno Rimane una cave land Sì no è importante questo Perché ci sono delle sinergie Con le caverne Non c'è niente interessante A riguardo Ma ci sono delle carte Che guardano specificamente Se una carta è una caverna Per attivare effetti Certo E anche in questo caso Attivala solo se il numero Di altre caverne Che controlli Più il numero Delle caverne Nel tuo cimitero È 3 o maggiore Ok ok Quindi deve avere Quindi deve avere almeno 3 caverne da qualche parte Da qualche parte Più lei Altre No altre Esatto 3 caverne più lei Più lei Mamma mia Insomma un po' strano Guardiamo le altre caverne Faremo una schermata unica Perché hanno tutte lo stesso effetto Sì sì Fanno tutte la stessa cosa Nel loro colore Discover hanno 4 E vanno sacrificate Pagando 4 Più il mana Del colore che producono Certo Sorcery speed Questa è la cosa Molto importante Sono tutte comuni Quindi playable in Pauper In Pauper Attenzione Discover 4 Non stupido in Pauper Potrebbe non essere stupido Non sono abbastanza studiato Di Pauper Però Far le cose gratis Di solito in Pauper Non è male La carta è da prendere Comunque Sì comunque sì Un settino preventivo Sì capito Non ci perdi nulla Alla fine costarne Veramente poco Menzione speciale L'abbiamo notata prima Guardando gli spoiler Uno per uno Abbiamo Quella che sembrerebbe Una Blood Raid Una Blood Raid Elf 2.0 Una cosa nuova Con un colore in meno Geological Appraiser Costa 2 2 rossi Umano Quindi ha un buon sottotipo Sì E Artificial Non è un bellissimo sottotipo In ogni caso Quando il Geological Appraiser Enters the Waterfield Se l'hai castato Molto interessante Questo è molto buono Perché altrimenti Finalmente l'hanno capito Perché Seriane cose che hanno Discover Tu discover Non benissimo Discover 3 Quindi esilia carte Dal top del tuo library Finché non esili Un online card Con mana value 3 o meno La puoi castare O aggiungere alla mano E se la casti Non paghi il mana cost Questa è molto interessante Perché come abbiamo detto prima È una simile Bloodbury delf Che ovviamente È molto più scarso Perché deve entrare Su campo di battaglia Quello che abbiamo già detto prima Ha il vantaggio Di essere monorosso Quindi è sicuramente Meno costoso Per quanto riguarda il mana Sì assolutamente Anche le stesse stati Diciamo 3-2 Non ha rapidità Non ha rapidità Probabilmente il punto più importante È proprio quello del fatto Che non è un 2 per 1 garantito Come per esempio L'abilità cascade Che è molto più rotta Chiaramente quando faccio Bloodbury delf Va sulla stack L'abilità cascade E risolve prima Della bloodbury delf stessa Quindi io ho tier 2 spell Di fatto Qui invece è una spell unica Quindi se io cantero 1-1 con essence cutter L'appraiser Non succede nulla Però secondo me È molto carina Per il pioneer Questa qua Sì Perché In draft è forte In draft questa Tutto quello che ha Un body e discover Mi sembra abbastanza forte Quintorius Paradossalmente In limited È davvero forte Però va bene in limited Anche perché anche qua Puoi fare come cascate No Fai discovering to discover Esatto Fai discovering to discover Carino Che può essere una bella catena Il discorso è che in point Potrebbe essere Forte La prima cosa che mi è venuta in mente È Gruul veicoli Che se ci pensi Ha la curva fino a 3 E poi c'ha A crown war Non si gioca neanche più La skyscraper Devi sparare anche se ti metti Stavo per dire un copter No Oblitering Magari Magari Oblitering team bolt Lo sparo a 4 Su planeswalker Su creatura Che siamo resilient Comunque puoi fare delle belle cose A 3 c'è il stone seeker Quello che dà rapidità Queste cose qua Ci sono tante belle cose Una love track Comunque Siccome può essere No l'A 3 Lo stone seeker È veramente forte In questo caso Perché gli dai haste Bella storia Sì sì Ti crei la tua propria L'ida haste Diventa Un 4-2 rapido Non è male Altrimenti Altri mazzi a base rossa In cui ha senso Convok non credo proprio Perché convok fa tutta un'altra cosa Poi adesso è un po' sparito dal meta Però comunque Apre delle possibilità È uncommon C'è un mazzo grulaggro In standard In questo momento Ed è anche parecchio forte O grulonaya Quindi Ed è tutto a 3 E con Adelina questo Se tu fai questo In tua Adelina Quindi Boros Così Quintorius diventa potente Potresti fare un mazzo con loro Sì certo Cioè tutti umani E poi Quintorius Crippino che fa Che fa lo spirito tra i due Però posso fare Quintorius Non riesco a neanche ridere Quanto sto male Quintorius Discovero 4 Discovero quello Discovero Adelina Sì Into counterspell Into counterspell Sul primo discover Non succede nulla Ma tanti counterspell Fanno schifo Quindi non si Sì standard Assolutamente Quindi questa è un po' la lista Poche cose importanti Che abbiamo notato Comunque Ristampano Treasure map Sì Vecchia gloria Che bello Io ero legatissimo a questa carta Mi piace tantissimo Una vecchia amica proprio Ristampano charta course Carta molto playable Carta che adesso Per chi gioca in Zed Phoenix Assolutamente Ha fatto lo scatafascio Se volete foil Avete un motivo in più per prendere E poi abbiamo le Growing Rights of Italy Molto bello Molto bello Ovviamente carta da commander Che diventa una culla di Gia Per chi non ha Le disponibilità Esatto Molto più forte di culla di Gia In realtà Perché aggiunge anche verde da sola Va bene Non è flippata Va bene Va bene Sicuramente hanno sbagliato Il prezzo Sì 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 Car market ha sbagliato il prezzo No quando gira è più forte Quando gira è più forte Quando gira Costa 20.000 mano Più mille condizioni 3 più 2 condizioni Quindi ti direi che non è molto forte Secondo me no Però dai ci prova Eppure un Cradle Cradle of Sun Carini funghetti Un po' meno il resto Il Cradle Carino i funghetti Belli funghetti C'è anche il Hanno fatto un commander Per i funghetti Ma non ne parleremo Perché è davvero pietoso Sì abbiamo letto l'effetto Sì lo metteremo a grafico Giudicate voi Giudicate voi anche Tutti i spoiler Che abbiamo appena presentato Perché per noi sono nuovissimi Sono usciti oggi pomeriggio E per voi lo saranno molto meno Perché questo video uscirà più avanti Però siamo comunque Curiosi insomma Di sapere cosa ne pensate E se secondo voi Ci possano essere Insomma degli spunti Nel meta Per queste nuove carte Soprattutto per Quintorius Per Quintorius Mandateci una brew Che la gioca Il nostro Tanto devo comprare Secret Foundry Se la voglio giocare in pari C'erano quattro io Da sempre Non ti posso fare Non piangere Non ce l'ho foil No quello non l'avrò mai da me Allora niente Però dai lo giocheremo Sui meti giochi Una lega con Boros Quintorius Puff Così facciamo uno quattro Dicevano buttati Bene ragazzi Questo è tutto Per la giornata Allora abbiamo parlato Di Playbooster Abbiamo parlato Di Spoilers Quindi ragazzi Ditesi un po' Cosa ne pensate La vostra opinione Suggeriteci qualche carta Che magari ci è sfuggita Noi chiaramente abbiamo preso Solamente un pool Di queste carte Che sono state spoilerate oggi Perché ne sono uscite 18.000 tutte oggi Certo Tipo figurati Il giorno che dobbiamo registrare Abbiamo dovuto cambiare Il topic Per fare spazio A questa cosa qui Abbiamo dovuto guardare Le cose in macchina È stato un disai Sì sì È stato un po' delirante La stiamo guardando Anche un po' adesso live Nonostante abbiamo un po' La situazione sotto controllo Come al solito Però insomma Ragazzi Diteci la vostra Noi siamo un po' Così No bombe No bombe Io sono in hype Per il draft Perché mi sembra Un limited davvero Dal power level Disastrosamente alto Perché sta cosa Di discover Sulle bestie Mi ricorda Io ho fatto qualche draft Di Alara Ed era incredibile Alara Incredibile Molto molto figo Io non vedo l'ora di draftarlo Però purtroppo Con le playboost Però Intanto Quasi ucciso Mirko Quasi ucciso Mirko Però Toccherà farlo Aprirò il dio bianco E sarò contento Aprirò il dio rosso Sarò comunque contento Perché raddoppi i danni O triplicare i danni Oppure aprirò Quintorius Aprirai Quintorius E piangerai È forte in draft Il quinto Quintorius Perché ne avrei già comprati 4 Per la scommessa persa Ragazzi Grazie di essere stati fino a qua Fateci sapere Iscrivetevi Abbonatevi Mi raccomando Mi raccomando l'abbonamento Sapete che potete farlo Ma noi ve lo ricordiamo Ogni volta Sicuramente Per quando questo video Sarà fuori Avrete già Il discord settato Sì Quindi È iniziata È iniziata C'è già la community Mentre parliamo di questa cosa C'è già la community Abbiamo già i primi abbonati Che noi non ci aspettavamo L'abbiamo vissuto un po' come La diecicento di Zio Perone Esatto Il numero uno Il numero uno Di Zio Perone Li metteremo in fondo Ai ringraziamenti di ogni video E certo Quindi ragazzi Grazie di essere stati qua Dallo studio di Earth's Research Lab È tutto Da Miriko e Pentola Bicchieri Alla prossima Alla prossima